A volte la burocrazia ti fa venire voglia di buttare via tutto. Ma con la semplificazione normativa, i tuoi documenti prendono vita. Le società possono comunicare con la pubblica amministrazione con una semplice email certificata. Puoi tenere in via informatica i libri, registri e documentazione di impresa o cedere le quote di una SRL in forma digitale. Così puoi avere più tempo per le cose che sono veramente importanti. Semplifichiamoci la vita. Informati su www.semplificazionenormativa.it www.semplificazionena.it